benvenuti su gala come si chiama il titolo ecco galaxy pixel world che una detram però dovrebbe essere facile perché me l'hanno detto che era facile se non è facile vabbè una cosa dice regole inizia dal mondo 1 se inizio dal 9 anche se non esiste ti va bene spara i doppi ring a doppi cerchi ci sono sopra cercate per avere degli indizi puoi andare indietro nel world selection inizia di ogni mondo il tuo score è il livello in cui sei nel momento goditi questa bellissima mappa allora back to gg room disponibile quando sei finito i modi ok insieme al mondo 1 perfetto back to world selection lì qua possiamo prendere world 1 qua c'è ok qua c'è uno strano porca oh calmi 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 ok spara no questo son indizi toglie le due trappole troppole nascoste guarda che ciccioni no non mi dire che devi fare il salto così non me lo dire easy ah devi fare ah stop impulse oh dove è il double ring eccolo qua impulse to the other side this is so difficult ok ho un'altra trap una nascosta tua madre allora trap e jump trap what the oh ma vaffan che ne sapevo questo era nascosti guardala tua madre c'è un'altra qua ecco perché jump trap jump eh qua devi andare nel cielo oh aiuto stai calmo stai calmo devi stare calmo ma dove cacchio siamo oh dove siamo scusa non è che mi puoi teletransportare senza il mio consenso eh come il coronavirus non è che puoi entrare dentro di te senza il tuo ice fit piedi ghiacciati piedi ghiacciati qua com'ho fatta ah come ho fatto a mancare hello vader so come si pronuncia hello vader hello tizio ah vedi Oddio quanto è bella sta pixel art Dell'amo Impulse to the top of this bag Però se non me le date le impulso Ah Impulse Mi sa che ho sbagliato a impulsare Oh un po' più vicino Era sbagliato Colpa mia? Sì perché non sono bravo con l'impulso Madonna E come si fa? Alla Ho capito tutto Lo scelto Sì 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 Eccomi Oh no 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 Devi stare calmissimo Devi stare calmissimo Salta Bello Un mondo 2 Non ho più la pistolina Porca vacca Scherziamo scherziamo Non ho più neanche la vita Sì ma io non ho più la pistola Ora mi fa Ah ok no eccolo Devo saltare E di nuovo qua E poi qua Eh vabbè Monumentum di scelta Così? Ok sì Devo fare Salta un pochino Prima A metà A metà cerchio Yey Non l'ho capito Non è giusto Non è giusto Non è giusto Stamarte non vale Facciamo finta che Oh ma io salto A metà cerchio Se devi saltare Un pochino dopo A metà cerchio Cioè non devo saltare Proprio all'ultimo Mi sta dicendo questo Io ho saltato all'ultimo Ecco Scegli Oioio Non ce la farò mai Dai che è facile Scegli via Che è easy Ma se non mi salto È brutto Tre minuti Tre ore Non tre minuti Tre ore Tre ore Se non ci si fa Mi compro un cane Ok Ma Sumba Simba Time I'm your gems Perfetto Io sono un hacker Non sono un hacker ragazzi Io sono Giorgio Alfieri Vengo dalla provincia Dalla provincia di Giampieri Lo so Lo so Ok Ma To E E Uff Ah no no Ho capito tutto Ho capito Ho capito Hello Vader Non mi fregherai mai Scricciavo Hello Vader Scricciavo Tu mi freghi Perché Perché non mi riesce È facilissimo È più facile Di bere la mortadella Vai va Va Fanno qua Ok Ora vado qui Faccio yay Poi aspetto che ritorno Faccio yay Vado qui Faccio yay Salto qui Rifaccio yay Rifaccio yay E poi adesso scappo Ed era così difficile World for preview Cosa vuol dire World for preview Oh 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 Il mondo 4 Mi farà proprio Schifo Ma lo sai Mi farà schifo Puttano Scappa Non lo so Non lo so No Ma Mi sa che devo iniziare A saltare Da quando arrivo Ma mi fa Incazzare Che c'è Un cane Eh no Ok C'è un busto Perfetto Non cadere Ci mancherebbe altro Non saltarmi Non saltarmi Mi devi far fare Il figure di erba Eh ancora Donna Fai ridere Come un cane Incastrato Nell'autostrada Di 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 Palermo Yay Vai Oh dov'è Questo Prova a Slidare Nell'upper block Sarebbe questo Ok Fatto da Eh lo vedi Ah dobbiamo andare Ne sciuare gli occhi Prima nel corpo E per le sciuare gli occhi Però vedete Grappo Proprio lì Ecco Oh 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 Ho detto World 4 Non mi stava antipatico Che si fa Yay Non ci capisco Ok No Non mi spiegate Puzzolina Ok Ok Così Yay E poi vai avanti No Scrizziamo Scrizziamo Yay E poi qua c'è Oh Io che ho Walk in the circle After the neo jump Ah Dove fare un neo Non mi riesco Nei neo jump Bro Non mi riesco Da qua per camminare Ah Brickable floor Jump Perfetto What do you Mi Ma dai Ho diventato tutto verde Ho diventato come Super Saiyan Non è giusto Yay Ok Ok Yay Madonna Lampadina Del cavolo No giusto C'è una lampadina La tolgo La tolgo Prima questa parte Non proviamo da questa parte Veloce a respawnare Puzzolina Puzzolina Farina Veloce Madonna C'ho fatta Dove fare tutto loco Accidenta Quel castoro Che mi ha detto Di fare sta mappa Ma lo sapevo io Ma io Oh E lo sapevo Mi trasformo un down Non c'ho fatta Non c'ho fatta Niente Non c'ho fatta Niente C'è più un cocktail Ma la Fa E E Eh Sì Ma Tua sorella Oh Ii Adesso Ah Fale Oh Madonna Madonna Ui 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 Veloce Madonna Io sono un pochino Deve essere qui Vabbè Basta saltare qua Non c'ho trovato il ring Dai Non è possibile Fa queste figure Allora Pull back after the first jump Ah Così Io adesso Metti due balloncini E poi vai nel ring Posso andare dentro di lei Signore ring Ringo Due ring No No Impasta No Torno nel ring Ok C'ho fatta Due ring Due ring Veloce Veloce Dove sto andando Sto andando nel pianeta di extraterrestre Veloce Veloce Entra dentro Faffa E la che cazzo Devo fare Ti compro un castore Mi serve di nuovo L'indizio Devo fare Di me Due a full block Jump after the checkpoint And all forward What do you Do you Ma il full block Sono scemo Devo far finta di soldare I pro click Che è sto tizio Leviathan Dove Devo fare Jump and run Devo andare Andando al Leviathan Miglior amico Dell'umano Tutto programmato Yei Dove devo andare Non ho più la pistolina Devo ammazzare Perché se no Non c'ho la pistola Questo non vale Do 29 29 morte 29 volte Eliminato Perché Non avevo la pistola Ragazzi facciamo finta Non mi andava Il quadrato Per saltare No mix Il quadrato Sce Sce Oh yo yo Madonna appena Eh qua c'è Devo fare il ring Vero Jump through the window Ah Pensavo fosse più difficile Ma questo è troppo facile Questo è anche il mio colore È il blue Quindi Yei Ecco Ah non vedo Questo qua mi prende Per il cavasisi Tu non mi puoi prendere Va vedi che era facile Jump into the dropper Sto è un dropper Sì è un dropper Decisamente Un gigante Sono un pro con i dropper Sono un pro con i dropper No no Che è Idea di una scala Da Charlie Brown Che vuol dire No bro Che figata No vabbè Non ci credo Ma no che rumore Delle scale Com'è possibile Bellissimo No voglio andare al mondo 4 Sono le scale L'ultimo Jump in the last moment I knew it. Ok, I'm too, I'm too old. Use the chiller grenade? Ah, you know this guy, it's so funny. We are so good together. Non mi resta usare le chiller grenades. Sludge. Chi è Sludge? Sludge è la versione cattiva, lui è buono, lui è Ripley, non è Sludge. Le scale, che belle. No, 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 scale. Porca vacca, c'è un botto di blocchi che mi fanno cadere. Ah, ma ti fanno l'isola assolutamente all'inizio, quindi non muo- no. Oh, in su. Oh. L'ultimo mondo, io sono so- sono ready? What the f- devo cadere dalle scale? Lo sento speed, what the f- sono trappole? Non me ne frega niente nulla. Oh no, adesso dico- ok. made it bro days is easy come fai a questo come si fa ma di andare sull'altro se ti vanno il check poi questa è world 6 preview no non lo so penso sia do not open lana gg room preview dove aprite in lama e scegliate a perché dopo questa scelta il mondo 5 c'è la gg room come qua enjoy the view free level what che figo sono tutti c'era l'ascoltore ho visto l'ascoltore devo fare qua ok tu easy bro tu easy non ho più la pistola spero che possa andare nei cerchi vero si che possa andare nei cerchi vabbè andiamo a casa anzi pistola o no non importa se non me le dite le cose oh non toccare i tuoi controlli va bene sto zitto mappi in dubai allo vader and pixie jesus cioè gesù ha fatto sta mappa grande gesù thanks to three big xanus gaming salva mira gg che lo conosco poi ti e banner can work in acidity please che li conosco anche loro sono i miei amici e poi e poi e poi e poi nulla c'è la gg room yeee gg's oh abbiamo vinto tempo di ballare no questa canzone copyright madonna stavo per ballare una canzone mettere un'altra mettere un'altra una più seria ecco qua figurine oh eh e poi io vi saluto con ci vediamo il prossimo universo perché qua c'è il lama verso il world selection e titansi con il team here ma io vi twitto anche i cani faccio ecco allora facciamo così se esce testa io twitto se esce croce no o testa vabbè avete vinto voi avete vabbè vabbè aspetta non è che esce sempre testa croce ok facciamo così se esce testa aspetta se esce testa continua il video se esce croce lo finisco ah interessante beh allora continuerò rifacciamo la mappa da capo facciamo altre mappe ad esempio oggi tilt tower zone wars possiamo fare questo altre cose oppure possiamo fare non lo so facciamo decidere troce vabbè ne rifacciamo rifacciamo perché non ho niente da fare allora testa me ne vado croce chiude il video cioè no testa chiude il video croce me ne vado cioè tutte e due me ne vado ooooh aspetta facciamo così allora croce me ne vado cioè chiude il video e testa eeeh allora croce chiude di colpo testa faccio l'altro è un po' ah non mi ricordo qual'è allora testa testa chiude no testa faccio l'altro o croce chiude di colpo vai via un momento della verità oh 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 Grazie.